Fatale un malore per un settantenne residente in via Crocello a Lusiana, deceduto ieri mentre si trovava tra i boschi di valle di sopra, impegnato con alcuni amici a fare legna. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Schio che ha raggiunto il luogo indicato assieme ai vigili del fuoco. Inutile però il risultato ogni tentativo di rianimare l'uomo. I sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso dell'anziano, sul posto anche i carabinieri.